In questi giorni, e credetemi il mio non è un intervento politico, si fa un gran parlare di alcuni membri, aderenti politici aderenti a un certo partito, che vengono indicati come incoerenti, come non adeguati alle promesse fatte perché non avrebbero pagato delle quote di rimborso dal loro stipendio. La cosa che intristisce è vedere come la politica in questo momento ipocritamente e moralisticamente si è impancata per dire sono ladri anche loro, quindi insomma loro che vogliono fare i puri e quindi un moralismo che viene usato strumentalmente per fini elettorali. Ma non è di questo che volevo parlare, era per dire semplicemente di fronte a questi episodi ricordiamo a tutti i politici che l'onestà non viene dall'appartenenza a un partito, per nessun partito. L'onestà, la trasparenza è un fatto che viene dal cuore. Se il cuore è pulito io sarò pulito, che faccia qualsiasi cosa in qualsiasi posto. Se il mio cuore non è pulito, non è trasparente, io non sarò pulito e trasparente in nessun posto, neanche se faccio il prete, il vescovo, il papa. Questo all'inizio della quaresima allora è qui a ricordarci una verità fondamentale, che non ci sono partiti che garantiscono il biancore dell'anima. Ma è soltanto lavorando sul cuore che avremo uomini e quindi anche politici che saranno messi in condizione di essere onesti. Quindi nessun partito ci dica che è più bravo degli altri perché loro hanno tutto il cuore pulito. E nessun partito si permetta di dire che gli altri sono sporchi. È soltanto il cuore di ognuno che va verificato e che ci dice quanti uomini siano puliti nel loro posto.